Buonasera a tutti e ben ritrovati nel quarto episodio di domande e risposte sulla piattaforma di Interactive Broker, la Trader Workstation. Passiamo subito all'operativo con la prima domanda del giorno, domanda di Stefano che ci scrive. Ciao Samuile, avrai una domanda che riguarda l'operatività con le opzioni. Se inserisco a mercato un vertical spread, ad esempio un bull put su Microsoft con put venduta 130 e put comprata 128 con scadenza 50-60 giorni, mi potresti far vedere sull'ordine la differenza tra l'inserimento dello stop sull'intera strategia e come inserire lo stop loss solo sulla gamba venduta qualora il valore dell'azione scendesse molto prima della scadenza per sfruttare il movimento della comprata. Ho chiara la strategia di Andrea, ma ho qualche dubbio su come gestirla a livello pratico sulla piattaforma con gli stop. Grazie per la disponibilità e per il servizio che offre. Presto Stefano. Grazie a te Stefano per la domanda. Allora, ho già creato la scheda del giorno, domande e risposte del 3 aprile e andiamo a prendere quindi Microsoft, MSFT il ticker, andiamo a prendere azioni smart e andiamo a caricare la catena delle opzioni, l'option trader. Eccolo qua. Avevamo a maggio, scadenza 50-60 giorni. Un attimo solo che si carica. andiamo a visualizzare tutti gli strike. Mi avevi chiesto una venduta e una comprata 128, non ho la comprata 128, abbiamo tutti gli strike, facciamo 130, put con 120. Prima la put, mi basta selezionarle nella piattaforma. Eccole qua. Vado ad abbassare l'option trader e ho già dentro una put, probabilmente da qualche esercizio precedente. Andiamo a chiuderla a mercato così possiamo fare tranquillamente la nostra strategia. Si dovrebbe caricare il pannello. Eccolo qua. Andiamo a mettere un ordine a mercato. E andiamo a fare un trasmetti così la chiudiamo. Eccola qua, chiusa. Vado a selezionare quindi una riga vuota per andare a creare la mia combinazione. Prendo combinazione, prendo la put 130, prendo la put 125, do un ok, creo così il mio vertical spread. Aspetto un attimo che mi vengano caricati i prezzi. Ecco qua. ipotizziamo di metterci in vendita al prezzo che c'è fra B e ASC. Ordine eseguito. In questo caso avrei dovuto mettere un ordine limite, ad esempio a 0,75. Metto comunque un ordine a mercato, cosa che non consiglio di fare mai. Però per l'esercizio ci serve avere la strategia ordine a mercato. Quindi inseriamo un ordine a mercato. In questo modo facciamo assolutamente prima. Ecco qua. Mi fa vedere anche il mio margine. Vado a fare un ignore trasmetti. così vediamo se vengo eseguito. In questo modo potevo farti vedere come andare a inserire una stop loss o sull'intera strategia oppure una stop solamente sulla gamba venduta. Ho provato ad attendere qualche secondo per vedere se venissi eseguito rapidamente ma così non è. Quindi parto con la seconda domanda. Speriamo che in questo lasso di tempo veniamo eseguiti Stefano così possiamo tranquillamente riprendere la nostra strategia. Purtroppo in piattaforma simulata a volte capita che ci metta un po' di tempo ad eseguire i nostri ordini soprattutto su opzioni. Andiamo a prendere quindi la domanda numero due domanda di Francesco che ci chiede che cosa indica il cushion. Il cushion come ho spiegato in un video precedente ma lo andiamo a riprendere perché è importante va a indicare il valore di capitale disponibile corrente in percentuale. Se andiamo a moltiplicare questo valore per cento vediamo che abbiamo il 93 per cento di conto disponibile alla marginazione. Da che cosa viene ricavato? Viene ricavato da un calcolo che è valore di liquidazione netto meno margine iniziale corrente uguale capitale disponibile corrente. Questo capitale disponibile corrente viene rapportato con un valore in questo caso in punti che non è nient'altro che un valore in percentuale se tolgo il 0 punto e metto 93 punto 99 e 61 o il 93 per cento virgola 99 in questo caso arrotondato 94 per cento del mio conto disponibile quindi disponibile alla marginazione. Andiamo alla terza domanda domanda di Davide grazie anche a Francesco per la domanda numero 2 grazie Davide per la domanda numero 3 che ci chiede grazie mille per i vostri approfondimenti ho un dubbio cosa accade se veniamo assegnati sulla gamba corta di un vertical spread e la nostra posizione cash più margine non copre il valore nazionale. In questo caso Davide Interactive ti va a liquidare la posizione quindi bisogna stare molto attenti in questo caso se si dovesse andare ad effettuare una strategia su una su un'azione ad esempio che moltiplicato il suo valore per cento nel caso di assegnazione non riusciamo a detenere in portafoglio meglio sempre mettere una stop una stop preventiva che ci permette di non essere assegnati altrimenti Interactive Brokers andrà a liquidare in maniera automatica le tue posizioni eseguendoti al prezzo di mercato quindi quando Interactive decide che la tua posizione non può più essere mantenuta quindi va in richiamo di margine e ci sarà una liquidazione automatica non solo di questa posizione nel caso in cui tu poi non abbia più margine neanche per le successive operazioni o le operazioni che avevi in macchina ti va a chiudere probabilmente anche una buona parte finché non esci dal richiamo di margini finché il tuo cushion non supera un valore accettabile da parte di Interactive Brokers. Nel frattempo come avete visto in basso destra è arrivata anche l'esecuzione dell'ordine sul vertical spread di Microsoft e quindi vado subito a riprendere la prima domanda la domanda di Stefano dove ci chiedeva come potevamo impostare una stop loss o su tutta la strategia oppure solo sulla gamba venduta in questo caso io mi tengo il ticker di Microsoft e visto che le gambe le orendi contate qua sotto il più della strategia vado a cancellarmele con il tasto cance dalla tastiera oppure facendo stop e andando ad inserire la voce limina tipo d'ordine stp come prezzo stop 1.50 come durata gtc vado a fare un bel trasmetti ecco riepilogo sempre importante anche la prima parte che mi fa vedere che questa volta sto andando ad acquistare la 130 e vendere la 125 con un margine che mi viene ridato di 500 dollari vado a fare un migliore trasmetti ed ecco qua finalmente che abbiamo inserito la nostra stop su tutta la strategia vado ad annullare questo ordine per farti vedere invece come posso mettere una stop solamente sulla gamba venduta quindi vado a prendere il più in modo tale da poter visualizzare l'intera strategia noi vediamo che la 130 l'abbiamo venduta e quindi vogliamo mettere una stop nel caso in cui ovviamente la strategia andasse a nostro favore il prezzo a cui io ho venduto la mia azione dovrà scendere quindi la mia stop loss la dovrò mettere ad un prezzo superiore al prezzo che sto visualizzando invece nel caso ovviamente della put comprata andrà a prendere ad acquisire valore quindi che cosa faccio vado a fare un tasto destro vado a fare un'operazione inversa quindi vado a prendere il chiudi rispetto a quello che ho fatto per la mia posizione in di acquisto quindi quella di vendita scusami della della 130 put vado a mettere una stop e vado ad inserire il prezzo a cui io voglio andare a inserire la mia stop ad esempio vado a mettere 6 6 dollari vado a fare un bel trasmetti ed ecco qua che in questo posso andare ad inserire solo ed esclusivamente la stop sulla mia gamba venduta eccola qua perfetto abbiamo risposto anche alla prima domanda andiamo a prendere quindi la domanda numero 4 di maurizio che ci scrive ciao samuele grazie per i tuoi video vorrei che fosse sempre venerdì grazie a te maurizio mi faresti vedere come posso se posso inserire sulla scheda tvs dove tengo sotto controllo le mie azioni l'importo e la data di stacco cedola certo che sì allora andiamo a prendere la schermata domanda risposte 0 3 0 4 e andiamo ad inserire un paio di azioni questa volta ad esempio tesla andiamo a prendere poi ferrari e andiamo a prendere fiat chrysler automobile e andiamo sul mercato nasdaq ok prendo queste attrazioni così posso farti vedere che vado ad inserire qua tasto destro personalizza layout le voci che devo inserire quindi come dividendo o data stacco cedola fanno parte delle colonne dati di mercato e non delle colonne ordine quindi mi metto qua sulla destra in colonne disponibili e vado a prendere dividendi ed ecco qua dividendi o importo del dividendo prendo ad esempio un porto del dividendo me lo metto qua e vado a prendere data stacco cedola eccolo qua lo vado ad aggiungere che così mi metto la data e mi metto l'importo vado a dare un'applica e un ok ed ecco qua che posso vedere che ad esempio tesla non mi paga dividendi ed ecco qua che infatti il dato non viene caricato ferrari invece mi pagherà i dividendi nel caso in cui ovviamente avesse in carico delle azioni long di ferrari il 20 aprile 2020 per un importo di 2 no un dollaro virgola 22 ad azione mentre ad esempio fca staccherà i dividendi il 25 giugno 2020 per 0,24 centesimi di dollaro ogni azione quindi qui andando a cliccare con il tasto destro su una qualsiasi colonna e cliccando su personalizza layout potrai inserire anche tantissime altre informazioni di tuo interesse che puoi trovare qua sulla destra all'interno dell'elenco colonne disponibili anche per oggi è tutto abbiamo risposto a tutte le vostre domande continuate a farle senza nessun tipo di problema sarà sempre un grandissimo piacere rispondere a tutti voi qualora avesse delle domande più approfondite da doverci porre o volete andare ad analizzare magari delle vostre varie situazioni che possano riguardare il conto alle monete alle valute che avete se volete andare a visualizzare qualcosa sempre più nello specifico che riguardi magari anche la vostra configurazione di piattaforma volete configurare tutto nel migliore dei modi per velocizzare comunque il vostro utilizzo della piattaforma sono prenotabili delle sessioni di personal coaching sempre all'interno della pagina che state visualizzando del nostro sito oppure se vi dovesse servire anche qualche personal coaching sugli strumenti finanziari sulle varie operatività sono sempre disponibili nel selezionare le categorie troverete tutto ciò che vi serve e troverete anche il coach che più è affine alle vostre caratteristiche per oggi è tutto vi ricordo che se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per rimanere sempre sintonizzati con tutte quelle che sono le nostre iniziative e anche per oggi vi auguro una buona serata e un buon weekend ci sentiamo venerdì prossimo con l'episodio numero 5 a presto